In questo tutorial ti spiegheremo come acquistare una licenza split sul sito DeFiU con il token Ultima. Vai sul sito web DeFiU, nell'angolo in alto a destra clicca su Sign In ed effettua l'accesso. Si aprirà una dashboard. Scorri la pagina verso il basso e vedrai un elenco delle licenze disponibili per l'acquisto nella sezione Split Licenses. Seleziona la licenza che fa per te e clicca sul pulsante Prochase, Acquista. Si aprirà una finestra che ti chiederà di selezionare un metodo di pagamento. Seleziona Ultima, conferma di accettare i termini e le condizioni spuntando la casella e clicca sul pulsante Purchase, Acquista. Nella finestra che si aprirà vedrai l'importo in Ultima e l'indirizzo del portafoglio a cui trasferire l'importo specificato. L'indirizzo sarà disponibile anche sotto forma di codice QR per inviare la transazione dall'applicazione mobile. Per effettuare il pagamento, invia l'importo richiesto al portafoglio specificato. Invia l'importo esatto indicato sullo schermo. Attendi la notifica di pagamento. Ora devi attivare la tua licenza. Per farlo, vai nella sezione del menu My Licenses. Trova la licenza acquistata e clicca sul pulsante Activate. Se vuoi vedere la cronologia delle attivazioni, vai alla scheda Activation History. Se hai ancora domande, puoi sempre contattare il nostro team di assistenza.